... no non c'è però basta la musica basta la musica fatemi sentire in tempo l'applauso come prima madrina del babaluti questa stagione che poi tra l'altro è il terzo anniversario ci vediamo insieme Lasciate il sigaro E' un microfono, dai Sono perfetto di stare qui perché io per questi anni ho lavorato E' un piacere stare qui con voi, buona sera di tutti Grazie, grazie, grazie Allora come tanti insomma che ho fatto poi il percorso di Grazie Fratello Veronica è stata una ragazza che offensionalmente ha lavorato in nostri locali Soprattutto in Gravese nella stagione infernale precedente di Grazie Fratello Una ragazza immagine per cui è una una delle vostre amiche Grazie a tutti 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 Grazie a tutti